Ciao a tutti amici coltivatori, come va? Volevo farvi vedere una robina carina che ho comprato su internet, cioè questa. È un lettore TDS, cioè ci dice quanti ppm sono disciolti nell'acqua. Ppm vuol dire parti per milione. Allora, lo immergiamo e, non so se si vede, dice che ci sono 9 ppm, quindi ci sono 9 parti per milione di sostanze disciolte nell'acqua, che per le piante carnivore è ottimo, che dovrebbe essere sotto il 50. Contando che questa, tra l'altro, è anche acqua che è qui stagnante da mesi, siamo a posto, direi. Pensavo fosse sballato questo affarino, invece devo dire che funziona bene, perché l'ho testato anche sull'acqua di casa, diceva che era oltre i 100 ppm, per cui non è... magari sballa di qualcosa, però è giusto. Insomma, pensavo che fosse completamente starato, visto che l'ho pagato meno di 10 euro su Amazon, per cui... Niente, per farvi vedere che con 10 euro si possono fare delle misurazioni interessanti, quantomeno verificare che state dando dell'acqua buona, ecco. Contando che questa è acqua che è qui stagnante da mesi, per cui pensavo che con tutte le alghe e tutti gli insetti morti il ppm sarebbe aumentato, invece è stabile. Sì, un mese fa era 6, adesso è 9, ma non è andato a 100, no? Anche perché ho messo su l'acqua, la neve, che fuori ha nevicato, quindi ho innaffiato le piante con la neve, così, per esempio, questo vaso di sfagno, l'ho impaccato sopra, quando la neve si scioglie, il muschio beve, e lo stesso l'ho fatto per la Steven, sì, che però rimane in un blocco di ghiaccio. Vabbè, speriamo bene. E niente, secondo me il TDS è uno strumento che non può mancare nel repertorio di un coltivatore, insomma, perché ci dà anche i valori, cioè, ci dà i valori dell'acqua e ci dice magari quando è ora di cambiare anche le membrane dell'impianto d'osmosi, perché finché compriamo l'acqua al supermercato siamo abbastanza sicuri che abbia un ppm molto basso, se invece usiamo l'impianto d'osmosi inversa, dopo un po' i filtri vanno cambiati, quindi finché sotto il 50 è tutto a posto, ma anche intorno al 10 va bene, cioè, 10 va bene, se inizia ad essere sopra il 20 è meglio cambiare le membrane dell'impianto. Dai ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ciao!